primo settembre il settembre è un mese corto ma è ricco ricco di l'apertura delle scuole buona fortuna genitori buona fortuna studenti non ve la meritavate non ve la meritavate un mondo così nessuno se lo dovrebbe meritare un mondo così però chi non fa niente affinché non sia così e se lo merita beh quindi prendetela con i passi giusto quelli che non si danno a fare come state oggi registro raffica ho i contenuti che mi ballano mi ballano nella testa c'è no tanti a volte dico dovrei fare questa programmazione una volta alla settimana editare che sto imparando ma non è che non è che mi sto impegnando ad editare non so capace ma inizio di imparare i termini no ci sono anche i format ecco perché ci sono delle cose che poi mi vengono annoia perché ci sono i format e quindi vedete no gli stessi sketch uno parla poi alla battuta compare il film mattino poi l'altra battuta compare il film mattino che l'accendo che noia tutto uguale allora bisogna condurre tutto nella stessa maniera perché così sembri appaia si dimostri professionale e perché bisogna essere professionale io non ci guadagno una lira qua quindi anzi ci rimetto pure la reputazione se non sto attenta quindi quindi io gioco come mi fare e piace senza far danni ovviamente cercando di non far danni cercando di portare del buon umore cercando di dare delle informazioni di fare anche po formazione e la faremo mi sto divertendo a fare queste cose ma è impegnativo perché il tempo che gli dedico e io non sono di quelle che taglia in colla fai se mette lì non so capace non lo voglio neanche fare guardate se proprio proprio dovessi diventare ricca farei fare a qualcun altro perché poi però ci metterei becco quindi sarebbe una dispensione maggiore di tempo e va bene sono contenta io non mi presento continuamente però vedo che non vi scrivete e allora siamo già tutti intimi noi non serve che mi sto a ripresentare volete imparare qualcosa come da una zia cosa si va da una zia a imparare qualcosa mi spaccio per un insegnante no per carità però vi passa un po della mia esperienza anche del spacciatrice di buon umore mi auguro ma anche di informazioni e quando le informazioni vanno corrette bisogna dire le cose dire le cose giuste beh allora intanto io poco fa comunque adesso parte entro è certo tenetevi pronti perché c'è sempre la possibilità che io manifesti crudamente ciò che sto vivendo sto passando i miei rimuginamenti e le mie la mia no quello che sto organizzando no quando sarà il caso ve lo dirò perché ci sono cose belle che posso proporvi cose belle che mi divertano se mi diverto io si divertono anche gli altri e chi non si diverte peste lo colga si diceva una volta adesso pruriti vari allora stavo vedete qua c'è un caffettino questa è una tazzina mica da niente poco fa ho risposto ad un commento dell'amica steffi l'amica che mi ha salvato durante la realizzazione di un capo per mia figlia perché con dei ferri nuovi di pacca che avevo conservato con amore perché me li so pagati nel senso che io non amo lavorare con i circolari lo faccio quando è strettamente necessario non è che lo faccio perché fa figo perché bisogna lavorare così ma che ha detto quando servono quando non servono si possono non utilizzare se noi abbiamo una manualità una gestualità un'esperienza che è maturata con un altro tipo di strumento dico ma mica hanno smesso di farli e vorrei anche vedere anzi migliorano pure quelli beh allora venite qua allora stavo rispondendo dicevo a un commento della mia amica steffi che lei mi ha regalato io lo dico quello che mi ha regalato mi ha regalato due paia di ferri circolari fissi e io d'ora in avanti userò solo fissi poi mica hai detto che non cambi che non cambi tipologia cioè non tipologia marche proverò metalli proverò leghe 20.000 sotto ai mari che speriamo che merga qualcosa di buono e io ad esempio so già il cavo che vuoi perché oddio il cavetto tinkin zanki ma tu hai provato il cavetto cucurucucu oh ma vuoi mettere il film fanfulo ecco io vi dico volete mettere i tubetti di gomma per fare per fare magic loop o l'orecchio da mercante no l'orecchio d'elefante come dice la l'amica e non amica perché a me sento me sento collega no perché è una persona così allegra che poi come fate tante no qualcuno come ci si sente un po amiche quando si condivide un qualcosa ma anche una un carattere lei è brava perché abita le polenze ecco è una delle prime persone che ho iniziato a seguire la egle la egle poi non ero iscritta cioè non avevo un canale quindi sapete che se non aprite un canale non potete partecipare ad esempio a di come non mi ricordo cos'è com'era la solfa che a un certo punto ho dovuto aprire il canale ma non ho pubblicato per secoli nei secoli amen e cosa volevo dire mi sono ripensa come come gli etta mi siete allora io sto guardando no degli episodi di della della tata e sto scoprendo cose no che ad esempio il personaggio originale non era ciociaro quando pensa la ciociaria ad esempio a me viene a parte che c'è un'amica che ha i genitori ciociari e ci ho fatto un ultimo dell'anno in ciociaria magnando cose buone proprio oddio che bello ho passato tutto un giorno in pigiama che erano momenti dove io non mi allontanavo mai dalla bottega mai non avevo un riposo a morire proprio neanche proprio a schiantare invece quel 31 me lo sono andata a trascorrere proprio in ciociaria il primo che camilla era dagli amichetti delle amichette mi ricordo di chi era ospite perché era i primi anni del liceo non è che camilla è sempre andata in giro come la bella italia di chiedela no no c'erano delle regole una volta e non mi ricordo era in mani buone o era spezza dei nonni molto probabilmente ma c'era già lo spavicetto ma che se lo ricordo non mi ricordo che anno era insomma e ma di sicuro dopo il 2003 sì dopo il 2003 quindi c'era già lo spavicetto mi sa oddio mio non mi ricordo quanti anni aveva camilla del 2003 fate il conto dell'88 88 98 98 15 9 a 15 e allora no mi sa che lo spavicetto quell'anno lì ancora non c'era allora bevo un attimo il mio coffee perché adesso vi dico della mica stefi come me lo sto facendo come piace a me perché mica è detto ce ne ha voluto imparare una vita perché mi faceva schifo fare il caffè perché mi toccava lavare la caffettiera anzi perché la trovavo sempre da lavare e la fare la caffettiera è una rotura di palla ma perché non sono mai stata portata per i lavori casalinghi non sono noi quelle io che guarda oggi stiro non sapete quanto mi piace stirare babbeate a te oppure oggi ho fatto i vetri anche a me piace averli puliti però ultimamente non voglio muovere un braccio se non è proprio strettamente necessario perché sudo solo pensando e ce l'ho da pulire i vetri poi è già piovuto per fortuna quattro gocce tanto rumore per nulla ecco proprio così e oppure ah guarda quando io non voglio perché mi rilasso a spolverare spolverare oh mamma mia che penso tutta la roba che c'è in giro mi con la voluta la roba in giro a spolverare non voglio spolverare non mi piace però lo faccio su dei pannetti microfibre non lo faccio frequentemente lavare il pavimento anche lì sono piena di roba in giro quindi sposta lì sposta lì sposta la tira su tutte le sedie già solo in questa stanza ce ne sono otto più la poltroncina dove sto più il tavolinetto più i tre tavolinetti più i cestini che poso più i cestelli più le buste più c'è sempre un sacco di roba e le piante no le piante interna non ne ho no ho una bottiglia colma di popocorn che era stata sapete quelle cose giganti di plastica era stata regalata un compleanno a camilla metto ma butta quella roba lì non ci penso finché non vedo i bighi che corrono io lo tengo e non ce n'è chissà cosa gli è andato dentro e sopra c'è una piantina a un aloe ne ho una due tre quattro con quella dell'ingresso mi piacciono poi gli sto dietro nel senso che riescono a campare poveracce con le piante ho proprio un rapporto a volte con qualcuna non ne so proprio e va bene allora poco fa ho fatto ho esposto ad un commento all'amica stefi che è quella che mi ha salvato circolare tra questi mi sa che c'era anche un chowu fisso che andava benissimo io poi già spiegato perché ho deciso che i circolari intercambiabili non vanno per me non mi trovate non trovatevi da dire ha un fatti miei l'ho detto non è che dissuado il mondo e se non compreranno quelli ricambiabili compreranno quelli fissi se proprio si devono far influenzare con gioia ma qualcosa venderanno comunque mi ha detto i circolari mai più poco 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 perché poi i dritti ci mantengono più libere i dritti durano di più sì è vero possono rompersi i pomoli si possono un po sbucciare le punte ma durano molto di più sono a meno rischio fratture rompimenti di scatole loro le prendete sono già pronti certo e anche a lavare da lavare sono più pratici da lavare le lavi si asciugano invece con i circolari di stare attento se hai le punte le rinche non vada dentro insomma lavate tutti gli attrezzi non per una questione di igiene e basta chi se ne frega lavate la roba vostra insomma ma perché non lavorano non sono dei validi collaboratori se non li teniamo puliti perché si aderiscono cose il nostro sudore la polvere in giro i peruchi dei cose i finissaggi dei filati insomma ce n'è sempre una ma lavati poche belle i ferri li lavo ecco posso fare la casalinga che dice ah io i ferri a casa mia non si toccano se non sono belli non si comincia un lavoro se i ferri non sono lavati ecco posso fare questa casalinga qua il resto come casalinga non sono non ho la cacca in giro per casa però non sono una che si sente realizzata facendo i messieri di casa e guardate che nella casa che ho vissuto a pomezia non nel comune lavavo i pavimenti due volte tre piani di casa allora due volte lavavo le camere e la scala e la cucina e il doppio salone perché perché io non lo so se era il mio gatto ma come c'era ma io trovo vedo sempre pelucchi vedevo zampate avevamo il giardino avevamo il padre c'era avanti andrei andrei avanti togliti le scarpe faccio presa esco subito si non ci non ci non ci sono su per le scale giù per le scale smusate su giù ma sono caduti siamo caduti tutti da quelle scale tra l'altro e quindi finché sono stata la casalinga durata poco è durata pochissimo ero sempre con la ramazza in mano e due palle perché mi dava proprio fastidio quando non lavoravo quando sono sempre stata fuori casa non si faceva un tempo a sfoccare la casa che non c'eravamo quindi si sporcava ma quando siete in casa siete da voi si sporca l'avete pulita dopo un po' ma che è successo qua quando sono entrati due malamut che avevamo dimenticato la finestra aperta nel giardino non vi dico non ve lo dico cosa non hanno combinato quei due disgraziati che hanno subito trovato la finestra aperta vai loro noi abbiamo pensato ai ladri poi quando abbiamo visto le confezioni dei budini prendevo dei budini ecco bio con tutte le certificazioni capito anche la scheda tecnica e tutti belli non c'era un grammo di quei budini che avevo una scaffalatura aperta no e suddividevo all'altezza le cose sono in foto le bottiglie ta 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 o c'erano arrivati dove non avrebbero dovuto e hanno capito c'è hanno rotto solo quello cioè capite il fiuto dei due basti no non sono troppo di ma poi avevamo preso gli oggettini dai tavolini da fumo no io li ho sempre chiamati i tavolini da te e qualcuno di famiglia invece li chiamava i tavolini da fumo ma siccome a casa mia non permetteva nessuno di fumare quindi erano tavolini da te punto e da caffè che schifo l'odore di fumo in casa proprio se c'è qualcun affetto da tabagismo sono fatti propri perché lo farà a casa propria mica a casa mia mica vi sto di arrangiatevi un po' voi che magari vi siete tamponati però fumate come macchie però ui guanti oh maschera e guanti pulisci hugger sì poi sì vabbè allora c'è no oggi c'è no quindi tornando alla mia amica steffi che mi ha mandato i due i due ferri che mi ha salvato proprio dai pesti poi io allora ho ben chiaro che non voglio ferri circolari intercambiabili con le punte intercambiabili e cos'era quell'altra ah e siccome io se faccio se faccio piripinchiolo lì no i suoi capi sono andati bene però ero in un momento dove usavo bene la lunghezza perché era un capo aperto e quindi me la gestivo meglio è diverso fare un capo aperto con i circolari perché avevo usato il capo non potevo passare per i dritti mi sa di no vabbè c'era un problema ah per la numerazione perché ero un 375 se non mi sbaglio vero steffi o un 2 con un 315 325 c'è una numerazione stramba ecco oltretutto se no passavo i dritti ecco perché e lei mi ha salvato carina me ne ha mandati due uno con la punta in bambù e uno con la punta metallica uno lungo in un modo uno ma mi ha mandato una bella tovaglietta perché io la uso come tovaglietta sarà anche lo strofinaccio ma io la uso come una tovaglietta perché è bellissimo con i tulipani ricamati dicevo i tulipani io amo i tulipani amo tutti i fiori di stagione va bene poi mi ha mandato aspettate un po ah i marca punti che io me li uso anche come no non mi avete visto come come orecchini perché sono bellissimi io tengo sempre degli orecchini che mi che posso riutilizzare infilandoli e quelli sono bellissimi ma li ho usati anche come marca punti perché erano perfetti per quello che dovevo fare poi no a quel momento avevo bisogno veramente di niente che mi potesse ostacolare ero stressatissima perché mi si rovinava davvero il filato poi mi ha mandato allora tovaglietta ricamata da lei col turipani che l'ho lavata di nuovo che ci ho versato il caffè sono inciampata non per altro eh sono inciampata ho versato il caffè e ho detto a chi mi ha tirato un accidente il pesto lo ricolga l'ho rimandata andare e però ho dovuto subito l'uovo e l'avevo tutta precosata tatatata ho detto oddio l'alone speriamo che vada via l'ho rimessa in lavatrice oggi perché l'avevo lavata a mano perché è ricamata ci sto attenta con il sapone in polvere biologico orsetto venuta perfetta è un sapone vegano quindi l'ho preso da provare per mia sorella l'ho regalata mia sorella poi un nuovo intonso intonso e cosa mi ha regalato poi di bello la stella tazzina mi ha regalato una tazzina questa qui che ce l'abbiamo una io una lei una lei una io e allora oggi che sta un po' per farmi un caffè quando avevo detto caffettino perché è una caffettosa e ma sì caffettino come le amiche sì caffettino avevo giusto bisogno di caffettino che ho pranzato molto tardi mi sto grattando le pizzicate ragazzi non so come fare l'aceto vedete le mie amiche di nittone mettici l'aceto sì ma io vado in giro che puzzo d'aceto come si fa oia oia che lavoro e allora mi sento tutta appiccicosa e allora ho detto che bello guarda un po' la stefi stavo per farmelo poi sono tutta qua che dovevo rispondere non so se mia madre ho visto che c'era una notifica ho risposto alla stefi e alla lobby e certo caffettino ero già lì che stavo per lavare quella rottura di scatole di caffettina carina moca piccola bialetti rosa e mi sono fatta caffettino che è venuta proprio buonina ho detto che bello allora proprio vedi che siamo in sintonia caffettino sì anche se sono le quattro passate ma chi se ne importa e allora dopo 16 minuti vi voglio sfogliare sapete quante volte ho tentato di sfogliare questo giornale che ora non si carica lo devo cancellare ormai quel vocale 40 minuti di vocale a ramengo ma che se ne importa è inutile che mi tirino accidenti tanto ritornano tutti indietro quindi non fatelo perché tutto quello che mi si tira addosso torna indietro ma io non lo faccio non ho bisogno di fare la contromanovra è così è mio angoletto custode quindi fate attenzione che parla con il vostro e tutto quello che vi mandate di brutto vi torna indietro con gli interessi sappiatelo fa tempo voi io mi ho avvisato eh vedete che io nomino gli amici anche i nemici perché io mica voglio male a nessuno no no non voglio male andare in fondo alle cose non vuol dire voler male a qualcuno voler forse bene a qualcun altro è diverso non lo fate per il male di qualcuno non si fa per il male di qualcuno si fa per il bene di chi se lo metta di chi è giusto che sappia le cose è un altro punto di vista provateci io sto operando per il bene sappiatelo sto operando eh uh vedete il bisturi zan 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 un taglionetto che buono che è allora da questa mia madre che ha mandato la non è che l'ha mandato che solo vuole comprare da sola però aveva già pianto in turco con la ragazza che va a dare una mano a casa dove sta adesso è rientrata la base beh non è più in giro con gli altri figli è tornata in quel di Luca e allora la ragazza che collabora in casa le ha portato il giorno a Gabriella le ha portato il giornale mia madre che se l'ho domanda l'ho detto ma vai esci sei in un punto nuovo del paese esci visto che adesso esce è stata mesi senza uscire adesso perché le scale le cose invece adesso sta in una casa che ha l'ascensore e tutte le mattine alle 6 esce e fa 20 minuti di camminata meno male ma ci voleva mia sorella Wawa che le facesse fare allenamento a Spezia scendi e andiamo al mare scendi e andiamo per negozi ah l'ascensore mia sorella ha l'ascensore in casa se no vabbè sta in un condominio allora leggiamoci un po' queste cose già vedete qua vedo matite e guardate un po' progetta il tuo giardino io l'avevo fatto nella mia casa la gente non ci credeva ma io avevo stabilito tutto avevo già visto e rivisto e previsto la crescita allora venite qua allora allora scusate che non vi devo far vedere le cose da fare ma mi piace tanto anche questa rivista ma che forse forse ce la possiamo anche regalare quanto costi? ce lo dice? ah 23 lavori tutti da fare ecco l'avello fa quando mi dedicavo al filero giovane mamma mamma non ce lo dice quanto costa non c'è scritto vedete l'hanno cancellata dalla pubblicità non c'è non c'è il prezzo non è una cosa bella mamma allora vi faccio vedere cosa c'è qua dentro perché mia madre ha già detto ah quella cosa là la voglio fare per tua nipote la Noemi brava e quell'altra la facciamo la Ilaria la Ilaria e la Elena Ilaria e Elena sono madre e figlia allora vediamo vi faccio vedere intanto una borsa io che non amo le borse da o non mi viene mai in mente come si chiama quella borsa seria mi viene in mente carita no carita è per i capelli è una borsa di ah somiglia carita in qualche modo che fanno anche le penne una borsa di L no boh una roba seria davvero eh diciamo vedi un po' la Lorenza che borsa che ha oh non è una come si chiama quell'altra che costa 4 miliardi e mezzo la Kelly no la Kelly è la ponciatura non è una Birkin no non è una Birkin se la Birkin ma sapete quante volte l'avevo già venduta no me l'ha regalata le mie amiche per i 50 anni quella lì ma prima o poi ve la faccio vedere perché se non la tiro fuori non la porto dal calzolaio a far riparare eh no però questa mi piace vedete questa borsa qua ecco lei può andare lei mi piace anche questa cosa che c'ha lei questo colore qua quando ero magra mi ci sarei anche no mi ci vestivo un po' con i pantaloni così pantaloni ero magra eh posso dire anch'io mia figlia dice oh quando vedi le vecchie no le diceva che era una bambina perché se adesso si esprime così la mamma le tira una scarpa in testa anche se ha 60 anni ormai quando senti le vecchie da giovane sono state tu le vedi sono brutte dico strobega aspetta si dice strobega è proprio strobega eh capite si camufa un po' la parolaccia e le vedi brutte ma da giovani tutte belle le vecchie da giovani erano tutte belle ma si dice Camilla ma lascia un po' illudere le persone almeno in sanità come la mamma la mamma io non dico che ero bella dico che ero magra è vero avevo sempre i miei polpacci il mio sederotto però 52 kg 1,65 un punto vita e poi il sedere trum mandolino e poi magra sopra che non mi mettevo sbracciata perché mi vedevo magra troppo le spalle magre se ci fosse stata la Federica ma da voi no vabbè quando sono andata a fare ginnastica che ero una non una fanatica ma quando si ha meno di 20 anni tutto prima dei 30 si ha un'energia che lavori vai a piedi aiuti la nonna aiuti le amiche le amiche della nonna poi fai sport poi fai musica di tutto ti formi delle forme sapete i corsetti adesso non riesco a fare un decimo di quello che facevo a 19 anni vabbè comunque andiamo avanti questo mia madre quando l'ha visto fa ma hai visto ma quanti ve ne ho fatti di quei punti eh c'ha ragione però quella mia madre da sola ci ha pensato ah però guarda io ho tanti di quei filati fantasia che se io li metto insieme ma che stiamo a comprare i filati così li facciamo eh ne volete un'altra a volte ce l'ha questo uscito mia madre allora qui vabbè abbiamo i punti che non vi posso fare vedere sono carine sempre le scuole punti tenete presente che tanti non riescano a scollegare vedete un punto su una manica come questo e volevate fare una copertina non cercate le copertine pensate ai punti da trasformare poi da replicare nel capo che vi serve questa manica anche mia madre ha detto oh mamma mia ma che brutta quella manica ma come è troppo scesa con la spalla ha ragione poi vabbè sto rimborso qua che ti pare una poveraccia non mi piace però questo punto è carino anche gonina bottoncina è carino un vestitino vedete che c'è anche il collettino uguale potrebbe essere anche una camicia un vestitino è bello un bambino vicino mia nipote è filippo era così biondo così poi c'è questo che anche mia madre è piaciuto è piaciuto anche a me mi piace proprio il collo che sta così perché è un collo magro no e vabbè devo stare col mento bello alto altrimenti c'è un effetto non cracchile c'è un effetto plissè ecco se sto col mento normale in effetti inizia a esserci un po' una papagorgetta morbidina non proprio cadente non ho la papagorgia papagorgia io cos'è la papagorgia è l'effetto gallina sotto al mento tra il mento e il collo ecco ho un effetto volendo un po' plissè che se lo prendete oh quanta roba che c'è sta lì dentro però è magro allora se sto bella come stanno le ballerine classiche no il mento avanti non si vede niente devo stare così però mi piace poi tanto ho sempre le mie sciorpine elegante mi piace ecco il difetto è questo è stata assemblata male perché non quando uniamo le due parti con i tre ferri è vero che all'interno e si fa sul rovescio no accostando i due dritti è vero che si forma sembra un effetto cucitura ma non lo è però dà anche struttura quella cosa lì ma non si forma questa scanalatura che sarebbe stato da togliere con il con il vapore è brutta questa cosa sembra una cicatrice è proprio un difetto però mi piace il tipo di filato e ce l'ho un tipo così nelle mie rocche e e comunque si può creare se avete un filato un po' gnecco di quelli troppo normali troppo così che sono buonini però sono noiosi cercate dei filati sottilissimi da chi sapete che magari vengono anche filati per magliaie si trovano dei filati con le gocce che non sono quelli fiammati però va bene anche un filato fiammatino sottile però ecco le fiammature non troppo grandi se no si altera troppo piccolo piccolo proprio un filato un po' regolare li abbinate insieme le metto ed ecco che avete un filato un po' mousson mi piace anche il calzon io amo i pantaloni di velluto ci ho fatto di quegli inverni avevo una scamiciata di velluto che poi quando era un po' la mettevo come divisa in bottega perché le ragazze avevano la copri divisa in gomma carina tutta svasata e le ho comprato sempre delle belle divise le mie ragazze allora questo abbiamo il golf molto anni 80 è tutto molto anni 80 questa rivista questo è il golf che mi voglio fare che ne chiacchieravo con un mio amico di maglia mi piace anche la gonna così io ho dei tessuti quest'anno li voglio tagliare e cucire ho il piano il tavolo qua della paolina che è perfetto per fare i cartamodelli poi mi faccio aiutare non lo so da chi a cucire perché a mia mamma che è andata a cucire non è ma io mi taglio i pezzi e poi li porto a cucire a viterbo che mi sembra ecco ho delle stotte così belle che le ho comprate a Genova troppo belle questo proprio è il mio stile il mio stile di quando ero giovane e il mio stile adesso quando mi vesto mi piace mi piace tanto l'informalità di questo capo mi piace poi si può fare anche meno boxy questo è bello perché a gioco si accavalla mi piace e poi l'ampiezza la potete veramente modificare adesso poi vediamo la costruzione qui abbiamo maglia rasata a dritto maglia rasata a rovescio grana di riso semplice e costine uno uno poi abbiamo un bellissimo filato tinto in stampa io vi ho detto che ieri mi è arrivata una scatola da mani in maglia non è un regalo a belli mi hanno regalato la mia bambina cioè mamma ha detto la mia bambina mi ha fatto un regalo quando c'erano i saldi comunque tenete d'occhio mani in maglia perché ci sono sempre io credo ultimamente le vedo ci sono delle opportunità delle offerte e poi ci sono anche le possibilità degli assaggi i piccolini che costano quanto i grandi in proporzione ovviamente al filato che portano ma avendo meno quantità potete assaggiare più filati se avete gusto intelligenza potete fare degli acquisti mirati io poi vi spiegherò del mio che sono super intelligente no però è stato un acquisto razionale poi in effetti ho scoperto che un prodotto non l'avevo scelto io ma perché ho scelto questo ha scelto mia figlia poi vi farò vedere questo è uno dei capi che io mi voglio fare e che ho anche scelto ma mi sa che ve l'ho fatto vedere allora se l'ho già sfogliato che l'ho già pubblicato ve l'ho già pubblicata la seconda volta l'ha sfogliata perché a me tra quello che cancello e quello che pubblico non ci capisco più niente anche questo metterò in conto eh metto in conto tutto 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 va bene allora mia madre ha detto che questo capo lo vuol fare mia nipote Noemi mia nipote Noemi è la psicologa di casa due due lauree con l'ode e il bacio accademico sapete che no ogni ogni scarrafone mammafone ogni scarrafone scarrafone è bella mamma soia io farei un corso di napoletano oddio ma mi puoi insegnare io lo amo il napoletano così come farei un corso di sardo è di siciliano questa mattina con la mia vicina eravamo schiena schiena quasi ma che bella che bella conversazione poi ho fatto un figurone perché stiamo parlando di relazioni in paese loro se ne vogliono andare arrivano i miei vicini americani con una loro ospita ciao Lorenzo poi arriva amica mia è my friend ma lei ha questi rapporti io sì come ho fatto perché siamo straniere tutte e due ecco perché e vabbè comunque vedete che qua c'è la spallina questa non è ossuta così io madonna non è c'è